Sono le ore 19, buonasera dalla Sius TV di Treviso, un saluto anche a coloro che ci seguono da radiotrevisolibera.it, la nuova, diciamo la new entry, come si può dire in termine un po' americanesco, al circuito Radio Science TV, RST, e un saluto anche a coloro che ci seguiranno poi da radioonda continua.it da Trieste, ecco si è formato un po' un asse tra Treviso e Trieste. Benissimo, e saliviamo anche i colleghi ragazzi di Radiodifusione Europea. Allora, questa trasmissione è praticamente divisa in due, parleremo dei problemi che sono legati ai cittadini, che corrono dalla mattina alla sera e poi magari vengono anche presi in giro. Subito dopo parleremo della crisi delle emittenti radio televisive locali, come sapete c'è questa situazione molto grave, già alcuni emittenti hanno chiuso, ci sono diversi disoccupati e a rischio ci sono 450 televisioni locali e 800 emittenti radiofoniche. avremo dopo quindi in collegamento diretto da Roma il presidente della REA, Radio Televisioni Europea Associate, Antonio Diomede, il quale ci racconterà, se più o meglio ci spiegherà le nuove codifiche che verranno avanti per quanto riguarda il settore televisivo. Vi premetto fin da adesso, quindi rimanete sintonizzati perché a proletto di cittadino tartassato, che è sempre quello che poi alla fine viene fregato, deve sempre mettere lui le mani nel portafoglio perché ci saranno spese da fare. Quindi rimanete sintonizzati perché alle 19.30 avremo il presidente della REA, Antonio Diomede, che ci spiegherà proprio questo concetto. Ed ora veniamo quindi alla prima parte, sono le 19.03, in studio Massimo Bonella, direttore di pianetaoggtv.net, testata giornalistica in collaborazione con il circuito RST Radio Science TV. Dunque, il cittadino molto spesso, come dicevo prima, che lavora da mattina alla sera, i pendolari sono costretti a volte a subire delle ingiustizie, tipo ritardi durante i trasporti, inalari, forte inquinamento da gas di scarico. Vi faccio solo un esempio. A Mestre c'è dell'incredibile perché di fatto abbiamo una corsia che prima era preferenziale per il tram, sono circa a occhio dunque 400 metri e non si capisce come mai da non a questa parte è stata aperta anche al traffico privato. Quindi abbiamo i mezzi pubblici, incluso anche il tram, che rimangono in coda e si beccano i semafori, perché ci sono almeno due semafori nel mezzo. Paradossalmente altre strade in direzione ovest della città, vale a dire verso l'ex ospedale di Mestre, dove c'è molto meno traffico, non c'è il tram che passa, i varchi sono rimasti attivi. Quindi per logica sarebbe più giusto che siano attivi quelli almeno dove passa il tram, visto che chi prende il mezzo pubblico almeno che sia un po' agevolato, visto che si impegna a lasciare la macchina a casa e non crea inquinamento. Ebbene cari signori c'è una coda pazzesca che si arriva a accumulare anche 10 minuti di ritardo, dagli 8-10 anche di più a seconda poi dell'intensità di traffico. Nell'ora di punta vi lascio immaginare. Allora, io ho testato questa situazione proprio stasera e non è la prima volta, oltre al fatto che ho fatto prima arrivare a piedi nella fermata dove dovevo scendere, ma ho avuto modo di constatare che strada facendo, lungo questa coda di macchine, sono transitati addirittura tre tram in direzione opposta, cioè per Venezia. Quindi vi lascio immaginare che razza di ritardi che ci sono. E non vi dico l'aria, l'aria era irrespirabile, cioè praticamente bisognava mettersi il faccioletto davanti al naso e alla bocca, perché c'erano in alcuni punti dove c'era probabilmente un ristagno maggiore che l'aria era veramente irrespirabile. Ora, qualcuno può pensare che c'è un po' di odore, è sgradevole, vabbè, che gli fa? No, non è così, perché questo odore sgradevole, respirandolo, poi tramite un processo chimico va nel sangue e da lì va in circolo. Ed ecco che dopo, a lungo andare, escono fuori le patologie. Le persone poi arrivano a ricoverarsi, vanno negli ospedali con la sanità che poi ci ritroviamo, e qui ci sarebbe un altro link che partirebbe per una nuova trasmissione solo su quello, ma lasciamo stare, senza sapere perché gli vengono queste patologie. Dunque, se qualcuno ha dei dubbi, basta che prenda la macchina, va a Mestre, la parcheggia in Piazzale Cialdini, e poi, se trova parcheggio ovviamente, poi piano piano a piedi si sposta in via Colombo e può vedere cosa succede alla sera. Alla luce dei forti allarmi per inquinamento nelle città. Ecco, a Mestre si fa questo. Prima erano chiusi i varchi per le macchine private, adesso si sono aperti e quindi si è creato un inquinamento forte e con ritardi, oltretutto, a chi prende il mezzo pubblico. Questo è quello che succede a Mestre, si amplifica l'inquinamento e si fa perdere tempo ai pendolari e alle persone che prendono il mezzo pubblico, si penalizza il mezzo pubblico. Non lo dico io questo, basta andare a vedere. Quindi, questo è quanto volevo giusto precisare. Noi siamo qui per fare servizio pubblico, per fare dell'informazione, il nostro lavoro, il nostro impegno, siamo giornalisti accreditati e quindi questo, diciamo, questo constatiamo e questo pubblichiamo. Allora, in collegamento telefonico abbiamo un nostro ascoltatore, lui si chiama Gianluca Scarpa, che ci chiama dalla storica città di Chioggia, perché appunto anche lui si è trovato in una situazione molto scomoda, un disagio, un fastidio, io vorrei che ce la potesse raccontare questa cosa, perché penso che non sia capitata solo a lui, ma anche a tanti altri, anche a tante altre persone. Allora, 1908, vediamo se il collegamento con Chioggia è pronto, vedo dalla regia centrale, che saluto Rosario Moreno, editore anche di Radio 6 TV. Dunque, Gianluca, ci sentiamo. Sì, ciao Massimo e buonasera a tutti i radioascoltatori. Benissimo, innanzitutto un saluto a te, alla tua famiglia. Ecco, vorrei chiederti questo, molto semplicemente, cosa è successo? Sì Massimo, allora, la settimana scorsa io e la mia famiglia siamo stati di un dramma, diciamo così, di un dramma sociale, di un dramma che capita un po' a tutti, però quando ti capita lo vivi in prima persona e vedi come funziona tutto il meccanismo, qual è il dramma? Il dramma è che torni a casa di sera dal lavoro, apri la cassetta della posta, e trovi uno di quei bei scontinoni lunghi, perché sono 20 cm di scontrino, con scritto che ti è arrivata una raccomandata. E poi guardi bene nei dettagli e vedi che si tratta di un atto giudiziario. E lì dici, ma cosa sarà un atto giudiziario? Cominci subito a preoccuparti. E dici, io quasi quasi andrei a prenderla subito questa raccomandata, così mi tolgo il persiero di vedere di cosa si tratta. E vedi invece che c'è scritto che il primo ritiro utile è dopo tre giorni. E qui casca il primo asino, perché uno dice, ma se il postino è venuto a casa mia e aveva questo clicco da darmi, com'è che adesso ci vogliono tre giorni per ritirarlo? In fondo il postino torna in posta e tu dovresti alla sera stessa poterlo recuperare. E invece no. E così cominci, diciamo, un due o tre giorni di ansia, perché l'atto giudiziario, l'atto pratico è qualcosa che ti manda un giudice. Questo dice la grammatica della parola. Se la mamma un giudice si tratta di qualcosa di serio. Si tratta praticamente di un avviso a comparire, di una denuncia, di una querela. Il caso migliore che potrebbe essere è il caso in cui si tratti di dover fare da testimone ad un processo. E quindi tu in questo dramma cominci a pensare, ma cosa sarà, cosa ho fatto, perché non puoi nemmeno immaginare. E poi leggi su questo spuntino che c'è un secondo limite, e cioè sei mesi di tempo per andare a recuperare. Cioè tre giorni minimo, ma sei mesi, con molta calma. Se vuoi puoi aspettare anche sei mesi. E vabbè, chissà come mai. Insomma, falla breve, passano i due o tre giorni, passa il terzo giorno, e vai a recuperare questo, dopo due o tre giorni di ansia, vai a recuperare questo atto di impiare. L'altro è una multa stradale. Una semplice multa stradale presa su un autovelox, di una statale, di una provinciale della zona di Padova. Erroneamente, abbiamo io praticamente, mia moglie addirittura, perché poi l'auto è intestata a me, ma anche la mia moglie, ha superato praticamente i limiti di 3,6 km. Per 40 euro di multa. Allora dici, ma la prima cosa che ti chiedi, per che motivo è che devono scrivere atto giudiziario quando si tratta di una semplice multa? Potrebbero scrivere multa stradale e uno sa, così male che vada, è una multa. Vabbè, diciamo, ho preso la multa, saranno soldi più o meno, ma non è un atto giudiziario che è una cosa che non ci sia. Ma poi, e su tutto questo sconteno, manca una cosa molto importante. E cioè, manca una frase che dovrebbero scrivere, a mio avviso, perché non la scrivono, è che è quella che, dopo trascorsi dieci giorni dalla consegna di attenza, praticamente l'atto, anche se tu non vai a recuperarlo, è come se l'avessi già preso. Cioè, è come se l'avessi firmato e portato a casa. E quindi, iniziano praticamente tutte le questioni legali al seguito. E quali sono le questioni legali? Nel caso di una multa, perdi i famosi cinque giorni, cioè se dai retta al fatto che è il caso in sei mesi, perdi i famosi cinque giorni di possibilità di pagare la multa in modo ridotto. Figuriamoci una cartella esattoriale che ti venga, anche questa, a cinque, dieci giorni massimo di tempo, per praticamente impugnarla e eventualmente fare un ricorso. E quindi, tutta sta storia per dire cosa? Ma per quale motivo? Il cittadino deve essere, prima, vessato da una raccomandata che non si capisce di cosa si tratta e portato in uno stato anche di fastidiosa ansia. Secondo, perché l'ente poste omette di scrivere questa cosa importante? Cioè, di dirti, guarda che, ok, ci sono in sei mesi, ci sono in sei mesi, ma guarda che se non la ritieni entro dieci giorni, poi potreste avere delle conseguenze diverse perché scadono tutti i tempi di voto. E in più aggiungo, in più aggiungo, questa è un'altra cosa che mi viene da pensare, ma è mai possibile che nel 2018, quando ci sono tutti questi meccanismi digitali, tutti questi bei sistemi, allora l'autovelox, il sistema praticamente che quando passi con la macchina ti vede chi sei, capiscono se hai pagato l'assicurazione, il bollo, il tiret e via discorrendo. Tutti questi bei meccanismi fatti a vantaggio dell'amministrazione, ma un meccanismo semplice e banale che facessi in modo che io praticamente quando faccio l'infrazione vengo informato nell'arco di 15-20 minuti da un sms, questo non si vuole fare, perché non posso credere che non si possa fare. Non si vuole fare per due motivi. Uno, per tenere in piedi tutto il discorso che faceva prima. E due, perché c'è anche la possibilità della recidiva. che vale a dire, nel caso in cui ad esempio io entri in una zona traffico limitato, se l'infrazione mi viene comunicata velocemente, evito magari tornando indietro di entrare sulla stessa strada e ripetere la sanzione. Invece, praticamente in questo modo, con la questione di dover mandare una raccomandata a casa, che poi entriamo nel discorso di prima, ma ecco che tu puoi praticamente ripestare la stessa volta più volte. Conosco persone che hanno ricevuto 3-4 relics sulla stessa strada, oppure 2-3 T-RED nello stesso mese sulla stessa strada. Ecco, proprio per questo motivo. Beh, guarda, io faccio una domanda molto semplice e da qui si capisce tutto. Come mai su questi, ad esempio, T-RED, tanto per entrare un attimo in quel discorso lì, non si mette un bel conto alla rovescia? Cioè, almeno uno si sa regolare? Perché a volte sei in una distanza, critica che o inchiodi o dell'accelerata e rimani sempre col dubbio perché ti scatta l'arancione che prendi e la multa. Ecco, così non si può andare avanti, non è possibile vivere in questo modo qui, sempre col partner d'animo addosso. E insomma, cioè, no, perché qui purtroppo beccano le multe anche chi va piano. Poi c'è un'altra cosa. I giornali avevano scritto, almeno qua in Veneto, che in provincia di Venese, in modo particolare, che ancora a suo tempo, quando hanno installato gli ultimi Venux, che i soldi sarebbero andati poi per sistemare le strade. Io qui vedo strade rotte, vedo in pullman, si sente di quei colpi che non ti dico. Potremmo anche fare i nomi delle strade. Cioè, non mi sembra che poi sia stato fatto un lavoro serio di manutenzione, perché quelle buche è da mesi e mesi e mesi che sono lì e dopo di inverno col ghiaccio si aprono ancora di più. Cioè, voglio dire, c'è qualcosa che non quadra alla luce del sole. Cioè, tutti possono constatare, non è che lo dico io, anche in questo caso qui. Non so, il controllo esce. Perché non si mette? Sì, sì, Mattimo, la penso pienamente come te, anche perché i T-REP messi in quel modo, invece che fa sicurezza, la tolgono, perché allora quando arrivi e vedi verde, allora il T-REP dovrebbe essere messo per evitare che le persone passino col rosso e quindi evitare che ti siano gli incidenti. Però cosa succede? Quando vedi verde, non sapendo se scatta, ti metti a correre più di prima. Al contrario, poi, se ti fa rancio, se ti fa rancio, inchioditi subito e magari qualcuno viene anche addosso. Quindi c'è il rischio del tamponamento. Dimostrando chiaramente che il sistema non è fatto per questioni di sicurezza, ma è fatto evidentemente dalle amministrazioni comunali delle varie zone per far cassa. Purtroppo non si può pensare altrimenti. La maggior parte degli autovelox sono evidentemente messi su zone che inducono proprio a sbagliare. Sono in discesa dopo di un ponte nella zona praticamente dove prima avevi il 70, ti trovi subito il 50 ed ecco la che scatta e avanti con lì. Non fatti proprio per questo motivo. E ripeto, come ho detto prima, i sistemi elettronici e digitali sono solo contro il cittadino. Si potrebbero fare tante belle cose anche a vantaggio del cittadino. Di l'attività non si vuole farlo. Ecco, poi, di questo nei media non è che se ne parla molto. Io poi faccio anche riferimento ai media, quelli che ricevono dei contributi, quei media, ad esempio, seminazionali, interregionali, che ricevono parecchi contributi all'anno. Attenzione, a differenza delle povere locali che anzi stanno chiudendo. Perché se loro prendono qualche, tanto per essere chiaro e incominciare ad entrare nel tema successivo, se questi media prendono qualche milione di euro all'anno, cioè un media locale a diffusione, malgrado sia diffusione regionale, faccio un esempio, Telemare di Gorizia, non arriva nemmeno a 5.000 euro all'anno, ma stiamo scherzando, ma che porcherie sono queste che accadono in Italia? Perché questi sono fatti, non sono purtroppo nostre ipotesi, ma sarà così, non sarà colà. No, sono fatti. A Telemare abbiamo una redazione che è a casa, gente che è disoccupata, gente di 40 anni, cioè dove trova il lavoro adesso? Ma non so. Ecco, tu mi permetto, scusami Gianluca, tu so che sei anche sindacalista, cosa ne pensi di questa crisi indotta? Perché a questo punto è una crisi fatta a proposito, perché una televisione come Telemare, che è a Gorizia, è l'unica in Gorizia e provincia, e quindi di lavoro ce n'è, caspita, come mai la redazione è a casa? Guarda, Massimo, secondo me su questa questione c'è qualcosa di più di sindacale. La questione è che si vuole togliere la purità dell'informazione, si vuole fare in modo che vi siano dei totem nazionali e che tutti ascoltino quelli per dare l'informazione che vuole. Le radio locali da sempre sono libere, le avevano anche come secondo nome molte radio dei locali. E quindi è evidente che gli si dà sulla terza a questo tipo di emittenti. Sono 30 anni che funziona così, adesso gli si vuole dare il secondo colpo di grazia. Che poi diventi anche un problema sindacale, questa è una conseguenza diretta, ahimè. Ma credo che non si voglia, chi sta facendo questo ha degli altri interessi, degli altri momenti. Certo. Allora, Gianluca, se non hai da aggiungere qualche altra cosa, io, non so, volevi aggiungere qualche cosa altro? No, 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 mi va benissimo. Io ho spiegato la situazione e vi ringrazio anche di avermi dato questo spazio. Insomma, mi auguro che prima o poi certe assurdità che ancora ci portiamo dietro in Italia cambino, insomma, a vantaggio in cittadini. E che queste mie parole, insomma, possano servire a questo. Certo. Allora, guarda, sono 19 e 20, abbiamo ancora 5 minuti prima poi di andare con la seconda parte. Se rimane un attimo in linea, io, Amari, ecco, chiedo al nostro editore se vuol dire qualcosa, una sua opinione su, un po' su questa panoramica che abbiamo fatto, sempre se è d'accordo, perché non era programmata quella domanda che ho fatto. No, 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 non è quello. Sai, il problema del traffico, il problema del viaggiare con l'automobile è un problema che porta un sacco di soldi nelle casse dello Stato e dei comuni. E io mi sono fatto un'idea, personalmente, non ho la macchina, lo sai benissimo, Massimo, mi sono fatto un'idea che secondo me i autobelox servono soltanto per fare cassa e invece sono nati perché dovrebbero con le sanzioni diciamo educare l'automobilista e io la vedo in questo modo, forse mi sbaglierò perché quando lavoravo, adesso sono in pensione, io guidavo la macchina di servizio, ho preso anche una multa sulla tangenziale quattro e viso perché togliendo la percentualità per un chilometro e avevo superato il limite alla fine e mi trovavo a pagare non 40 euro ma 80 e passa euro quindi non so se non è però dove sono messi è vero molte volte mettono questi aggeggi infernali nei posti più squallidi per quanto mi riguarda perché inducono molto l'automobilista a sbagliare perché è normale che uno ci si può un attimo distrarre non parlo di quelle persone che sono attaccate al telefono o che fanno altre cose mentre guida che per esempio se vedi a treviso tu sali sul tangenziale qui come si chiama a treviso tu arrivi a un certo punto e vai a 80 subito dopo sali devi andare a 70 appena scendi riprendi a 80 quindi tu arrivi sparata e ti accorgi all'ultimo momento perché hai messo quasi sotto il segnale di riduzione dei 70 km e lì io ho preso la punta sono arrivato troppo lungo per un chilometro alla fine in più e io rimango di questa idea questi aggeggi infernali servono soltanto a far cassa devono portare soldi nelle casse delle amministrazioni comunali dello Stato di chi le prende eccetera eccetera per quanto riguarda invece la parte iniziale che Gianluca Scarpa diceva di quest'atto giudiziaria eccetera che arriva è vero perché quando ti arriva un atto giudiziario tu pensi subito al male la prima cosa che pensi al male non vai a pensare a una multa o un'altra cosa dovrebbero inventarsi un qualche cosa di diverso per avvisare tipo tutti abbiamo il cellulare tutti abbiamo Whatsapp tutti abbiamo l'email tutti quanti e diciamo ognuno di noi dare l'autorizzazione che qualsiasi cosa succede veniamo avvisati tramite un'email o tramite un messaggio sul telefono potrebbe essere un'idea cioè la butto lì sai quanti soldi si risparmierebbero perché poi in fin dei conti mandare un atto giudiziario non costa poco ma non lo paga neanche chi lo manda lo paga alla fine lo paga chi riceve perché tutte le spese e tutto quanto vengono inserite dentro da quello che vedo io o no insomma ti trovi una multa da 40 euro e poi ti trovi maggiorata poi fanno scattare i 10 giorni poi fanno scattare i 60 giorni poi fanno scattare c'è si arriva all'inverosimile quindi sono tutti i suggerimenti che diamo ai nostri amministratori ecco chi amministra le città chi amministra i comuni le regioni e lo stato insomma prendete in esame adesso con la tecnologia arriviamo dappertutto quindi anzi ieri sera la sonda è atterrata anche su Marte ha fatto l'ammartaggio quindi possiamo anche mandare la multa là sopra con un sms o no Massimo sì certo è chiaro il concetto voglio dire noi ecco questi problemi li solleviamo facciamo servizio pubblico quindi è giusto parlarne approfondire insomma perché il cittadino veramente mai come in questi anni tra parentesi e che siamo nel 2000 è così stanco stufo ci sono in giro molti disoccupanti non si arriva a fine mese le tasse sono più alte ci sono delle situazioni per fare un viaggio adesso uno deve pensare ma faccio l'autostrada o la strada normale se faccio l'autostrada ho lo stesso un patrimonio da spendere ok ma basti pensare da Trieste a Venezia sono più di 10 euro sono cose incredibili cioè da Mogliano Veneto fino per esempio a 27 via il pezzettino di a 28 via a 28 a Sicile sono 7 euro se non di più allora uno deve fare lo slalom uscire per evitare le barriere maggiorate perché ci sono anche quelle Villa Bona Quarto D'Altino Mogliano Veneto Sacile Porto Ruraro Isert e altre ancora voglio dire non è possibile andare avanti così naturalmente noi ospitiamo assolutamente che con questo nuovo governo si possa mettere mano un po' a queste situazioni di disagio a queste situazioni che si sono anche molto pesanti per il cittadino in modo da poter riprendere un'Italia con una marcia in più con un po' più di respiro questo è l'augurio che ci facciamo Massimo scusami se mi infilo dentro ma ritornando alle autostrade io rimango sempre dell'idea che tutto ciò che su infrastrutture devono essere tutto statalizzato e non privatizzato non capisco perché le autostrade devono essere privatizzate è il suolo pubblico è il suolo nostro quello lì cioè dove passa l'autostrade che del privato insomma è vero sono d'accordo io sono stato un attimo in sintesi perché altrimenti prendiamo lo spazio della seconda parte chiedo scusa chiedo scusa ma mi è venuto così a passare dai Gianluca io ti ringrazio per questa sono io che ringrazio voi sono io che ringrazio voi e per lo spazio che mi avete nato sono io che ringrazio voi allora io ti auguro una piacevole serata magari in nostra compagnia adesso hai sentito c'è anche un altro emittente in più che è entrata fa parte del circuito Radio Science che è radiotrevisolibera.it poi abbiamo anche la collaborazione con Radio Onda continua appunto it da Trieste Gianluca a presto magari ci aggiorni se c'è qualche altra cosa appunto da far emergere alla luce grazie ok grazie e buona serata a voi in studio e anche a radio ascoltatore buonasera buonasera grazie a Gianluca Scarpa che ci ha chiamato da Chioggia il nostro ascoltatore molto attento ai nostri programmi ecco questo ci fa anche molto piacere come lui sappiamo ci sono molti altri quindi stacchiamo allora il collegamento da Chioggia e alle 19.28 vediamo di come dire girare pagina e aprire un nuovo capitolo che già ve l'ho accennato allora vediamo se Rosario che comunque so che appunto è in collegamento qui anche con il mio studio che ci siamo sentiti pochi istanti fa allora ti chiedo Rosario se vuoi mettere un piccolo brano musicale nel frattempo ci colleghiamo con Roma oppure come preferisci guarda se vuoi mettere un brano musicale mentre cerchiamo di collegarci con Roma perfetto quindi ti do i dati e quindi ottimo allora 19.28 rimanete sintonizzati questa è Radio Science TV con Radio Treviso Libera punto it e rimanete in ascolto diciamo perché tra breve parleremo del nuovo digitale terrestre che ahimè attenzione perché c'è da mettere le mani nel portafoglio e quindi rimanete sintonizzati che vi vogliamo spiegare un po' cosa succede con una persona competente in materia il presidente dell'area l'ingegnere Antonio Diomede prego dunque Rosario vado col brano perfetto brano in onda l'ingegnere 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 portfoglio l'ingegnere 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 No, no, you know she looks so good But she ain't so pretty So leave me alone before I heal it up here Wonderful, but I'm a reason to be half one land For a while And this is where I live You don't have to speak There's no room for goodbyes Or desperate lies between the teeth That's just how it goes Everybody knows There's no room for your games There ain't another girl like her in the city Yeah, I know, you know she looks so good But she ain't so pretty So leave me alone before I end up here So leave me alone before I end up here So leave me alone before I end up here Benissimo, seconda parte di Speciale Radio Science di nuovo buonasera a tutti voi gentili ascoltatori in studio Massimo Bonella, sono le 19.33 saluto sempre la regia centrale a Treviso Rosario Moreno io vi parlo qui dalla redazione di PianetaOggiTV.net testata giornalistica di Venezia All News e come accennato parleremo di mass media in modo particolare andremo a toccare un punto dolente perché con la nuova codifica l'utente dovrà mettere mano nel portafoglio ancora e io per farvi avere una spiegazione precisa ho chiamato un esperto e lui già lo conoscete è il presidente della REA Antonio Diomede che saluto che è collegato in diretta da Roma buonasera Antonio Diomede Buonasera Massimo Ecco, allora prima di entrare a spiegare quello che ci aspetta con la nuova codifica vorrei innanzitutto sapere così le ultime news, le ultime notizie sulla crisi dell'emittenza radio televisiva locale che non ha precedenti sempre se ci sono delle notizie perché so che ora stiamo aspettando un po' cosa decide il governo Sì, le notizie per quanto riguarda l'emittenza locale non sono mai buone l'ultima è di ieri che si è tenuto il famoso tavolo TV 4.0 istituito dal MISE dal Ministero per lo Sviluppo Economico il cui presidente è il ministro Luigi Di Maio in questo tavolo si esaminano tutte le evoluzioni praticamente del digitale terrestre e in pratica si sta esaminando adesso il passaggio il trasferimento della banda 700 ai telefonici e l'introduzione con la contestuale introduzione della tecnologia del DVB-T2 ossia del digitale terrestre di nuova generazione quello attuale è il T1 che tutti quanti abbiamo conosciuto con lo switch off cioè con lo spegnimento dei vecchi televisori e l'accensione dei nuovi televisioni digitali adesso c'è un nuovo switch off spegnimento del T1 quello attuale e riaccensione col T2 ci sarà una data precisa in cui faremo questa accensione spegnimento e accensione virtuale ecco mi scusi mi scusi se la stoppo un attimo per capire per far chiarire anche ai nostri ascoltatori perché bisogna che la prendano come dire un po' per mano perché dobbiamo diciamo avere il più possibile dobbiamo il più possibile farci capire degli ascoltatori perché è importante sono dei passi importanti allora adesso c'è il T1 e sarebbe l'empeg 2 o il bagno? Allora il T1 è praticamente il digitale di prima generazione che è stato introdotto nel 2009 come conseguenza dello spegnimento del vecchio televisore chiamiamolo le vecchie immagini analogiche vediamo con occhi e cassoni parliamo in questi termini per farci capire meglio perché se andiamo sulla terminologia delle codifiche poi magari ci perdiamo anche il collegamento diciamo della nostra conversazione con gli ascoltatori il T1 è quello attuale il digitale è così come lo vedete succede che il digitale sta sempre in evoluzione diciamo che ogni 5 anni ci sono sempre di studi e di sperimentazioni che fanno i grandi laboratori tecnologici il digitale attuale sarà portato a breve nel 2020 praticamente a un'evoluzione che si chiamerà nuovo digitale T2 che cosa comporta questo? che avremo immagini sempre di alta qualità e quindi non è che avremo un grande salto diciamo da questo punto di vista delle immagini perché sono già perfette avremo però il vantaggio che in una determinata banda in un determinato canale diciamo perché conosciamo meglio come canale potremmo mettere più programmi cioè saranno canali maggiormente compressi sempre ad altissima risoluzione cioè ad altissima qualità visiva ovviamente questo costerà che cosa costerà? costerà il cambio del televisore nei casi in cui l'utente volesse ricevere questa nuova compressione diciamo maggiormente evolutiva che tra l'altro non è che è un optional per il momento sarà imposta perché alla fine poi entro il 2022 tra il 2020 e il 2022 poi si smetterà proprio la produzione dei vecchi televisori quelli attuali chiamiamoli attuali con i nuovi ma nel frattempo però sarà possibile utilizzare gli stessi televisori per vedere la nuova tecnologia in T2 con le nuove compressioni con un decoder che sarà naturalmente acquistato e quindi bisognerà come diceva lei Massimo mettere mani al portafogli e comprare questo nuovo decoder e quindi la domanda che io mi la domanda che io mi prego e quindi con più telecomandi più difficoltà mi viene in mente i pensionati perché la fin fine poi chi che ne perde è l'emittenza locale beh è un decoder che avrà un nuovo telecomando sicuramente ma questo diciamo non è proprio un grande disagio il disagio è che bisognerà mettere mano alla tasca a distanza di pochi anni perché noi avevamo i vecchi televisori che abbiamo da poco sostituiti con i nuovi e a distanza di 5-6 anni dovremo comprare altri televisori con altri decoder eventualmente e anche in alcuni casi rivedere anche i sistemi di antenna riceventi perché cambiano anche alcune posizioni di trasmissioni e che poi parleremo magari più in là questo va sempre alla fine a carico dell'ultimo consumatore dell'ultimo destinatario diciamo di questa tecnologia che siamo noi i consumatori e quindi la domanda che ci dovremmo corre è questo in pochi così pochi anni era proprio necessario tra il vecchio televisore analogico e questo nuovo T2 introdurre nel frammezzo il T1 a farci acquistare un televisore che in pochi anni sarebbe stato già obsoleto infatti infatti è qui che volevo arrivare perché all'epoca la Slovenia diceva se voi prendete un decode già Mp4 che noi trasmettiamo in Mp4 vi legge sia l'Mp2 che l'Mp4 e quindi un domani che si passa l'Mp4 siete già a posto e quindi qua c'è ecco la confusione ecco butto lì questa cosa in modo da poter fare chiarezza sì perché l'Mp4 riceve praticamente tutti i segnali anche quelli attuali però l'Mp2 non riceve l'Mp4 e questo è il contrario e questo è il punto quindi allora mi faccia capire il T1 sarebbe l'Mp2 il T2 sarebbe con l'Mp4 esattamente e poi c'è l'Mp4 l'Mp4 è ancora più evoluto che con una codifica di trasmissione che è chiamata H265 ma quella verrà ancora successivamente e si prevede anche quello anche di nuovo mettere mani alla tasca comunque ormai l'elettronica è entrata nel concetto evolutivo che è anche un concetto di consumo di mercato che le famiglie devono programmare ogni 5 anni per cambiare come si cambia ogni 5 anni il frigorifero si cambia la lavastoviglie si cambia l'aspirapolvere e dobbiamo metterci l'anima in pace che l'industria dell'elettronica ci mette sul mercato nuovi prodotti che già ha in tasca 5 anni prima li mette 5 anni dopo perché in questo modo fa lo smaltimento della rottamazione dei vecchi apparecchi come si avviene con le automobili con le nuove e quindi abbiamo anche l'automobile che è del Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 e la stessa cosa vale per il televisore questo è l'andazzo è stato è stato molto chiaro ma allora secondo lei perché se partiti dal T1 potremmo partire almeno dall'Empere 4 insomma cioè non dall'Empere 2 3 col T2 ma sì ma infatti già dal 2010 l'H addirittura l'H265 che è il supercoder decoder che attualmente diciamo fra un po' andrà in vigore ma viene tenuto bello nascosso ancora per smaltire tutta la tecnologia attuale perché in modo poi ci cambieranno di nuovo ci obblicheranno a cambiare di nuovo il televisore ma queste tecnologie qua del T2 potevano tranquillamente essere già adottate nel 2009 perché già esistevano le industrie le avevano già ampiamente sperimentate andava benissimo e non se la sono conservata bene bene in cassaforte diceva bene adesso facciamo così noi abbiamo nella nostra banca tecnologica abbiamo questo questo prodotto e lo teniamo per il momento in cantiere finché non riusciamo nel frattempo a smaltire tutti i prodotti del T1 che già erano stati addirittura fatti già negli anni negli anni 90 anche il T1 c'era negli anni 90 neanche non c'era quindi così loro praticamente si conservano la possibilità di mettere sul mercato sempre tecnologia che noi consideriamo nuova ma che in estet l'industria c'ha già in cantiere che ha già sperimentato ampiamente e che è una grossa banca praticamente per loro perché fanno business certo ecco ecco il punto allora i governi e i governi che poi sono praticamente diciamo spalleggiano questo 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 comportamento non troppo lineare nei confronti del mercato dei consumatori ma ecco le chiedo allora anche questo quando si sente quando il cittadino diciamo comune pensionato che sente parlare o vede anche in sovraimpressione sotto ad alcuni loghi ad esempio 5G o addirittura 4K allora che cos'è di cosa stiamo parlando stiamo parlando parliamo del 5G adesso si parla di 5G e quindi avevamo il 3G poi siamo passiati al 4G adesso al 5G ma bisogna sapere che il 5G che noi andremo ad adottare sempre intorno dopo gli anni 20 già è ampiamente funzionante negli Stati Uniti ed è in diversi paesi dell'Est in particolare nei paesi praticamente nel Giappone e in Cina già è perfettamente funzionante in Europa ancora non lo è pian piano lo introdurranno lì quindi loro fanno questa tecnologia la mettono nei paesi diciamo a mercato più spinto più consumistico e poi lo sperimentano lì da un punto di vista diciamo anche dei costi dei brevetti dello sfruttamento dei brevetti eccetera e quando il brevetto in quei paesi a grande diffusione con gli Stati Uniti a grande consumo il brevetto già e anche i costi di sperimentazione sono stati praticamente non solo ammortizzati ma poi arrivano i guadagni poi a costo zero loro introducono in altri paesi diciamo meno evoluti come mercati come consumo e tra questi c'è l'Italia in Italia arriva già tutta roba sperimentata e già ammortizzata ampiamente che poi ci rifilano a prezzi inizialmente eccessivi vi ricordate qualche anno qualche anno fa il 4G ma appena due tre anni fa il 4G già un telefonino costava non so quanto forse più di mila euro non mi ricordo ma costava tantissimo adesso addirittura la team lo dà in omaggio se fai un abbonamento full time e quindi questo è perché perché lo dà in omaggio perché ha già pronto il 5G in quella famosa banca della tecnologia ce l'ha pronto vedete ci sono pronte ma allora ecco allora io da profano chiedo questo no per quanto riguarda i televisori bene allora M4 siamo al T2 ok poi se si va al 5G dobbiamo ricambiare ancora tutti i televisori no il 5G diciamo è più applicato è applicato alla telefonia non alla visione proprio televisiva ecco volevo fare chiarezza anche su questo perché a volte chi pensa che è collegato anche ok no no assolutamente guarda allora le trasmissioni televisive avvengono con degli standard diversi da quella delle telecomunicazioni della telefonia assolutamente quindi su questo no sono due campi che sono praticamente corrono in parallelo ma non sono praticamente diciamo convergenti o potrebbero essere domani convergenti quando avremo la fibra ottica dappertutto in quel caso la telefonia praticamente che fa convergere tutte le piattaforme digitali e allora satellite terrestre telefonia internet eccetera sarà la fibra lì che converge tutto ma pian piano è un processo che pian piano si sta costruendo ma per il momento i due campi sono tecnologicamente nettamente separati il 5G interessa soprattutto la comunicazione attraverso la telefonia la telefonia è questa in questo momento io e lei stiamo praticamente utilizzando per poter comunicarli attraverso un trasmettitore che è di là dalla vostra camera di trasmissione che usa un'altra tecnologia ma però che trasporta la nostra conversazione la veicola ma non la produce la produce invece la tecnologia telefonica il 5G interessa allora il 4K cosa sarebbe? ma il 4K è uno standard praticamente di qualità di trasmissione non è di cioè di visione in pratica di trasformazione dei segnali da analogico in digitale perché ecco questa è un'altra cosa che bisogna chiarire tutti i segnali non nascono digitali nascono tutti analogici poi vengono trasformati in digitali e questo grado di trasformazione in digitale ha una codifica che era MPEG 2 MPEG 4 e così avviare di seguito con tutte le altre codifiche che verranno dopo però i segnali si sappia in natura non esiste un segnale digitale in natura esiste un segnale analogico che quando due uomini due persone si parlano senza nessun mezzo attraverso la propria la propria la propria voce va bene la nostra voce emette segnali analogici non digitali la digitale è praticamente prego quindi a questo punto sì prego prego no allora dico perché mi metto sempre nei panni del cittadino se uno ha un televisore come adesso attuale ok il 4k non lo vede magari sente l'audio ma non lo vede con i televisori nuovi può vedere allora anche il 4k ah certamente se i televisori sono tutti predisposti quelli nuovi con il 4k che sono ad altissima risoluzione attualmente ci sono attualmente ci sono delle televisioni che già trasmettono quel 4k no nessuna nessuna si compra il televisore ma nessuna di queste ancora trasmette non capito allora perché a volte capita di sentire su qualche emittente ad esempio adesso non mi ricordo vabbè comunque capita che sento l'audio ma vedo lo schermo buio che sono delle prove tecniche allora si fanno delle prove tecniche il 4k ancora non 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 ce l'ha nessuna nessuna trasmittente televisiva non ce l'hanno quindi in effetti però la ricezione è già predisposta giustamente e che poi quando verrà introdotta in modo generalizzato questa nuova codifica che non la chiamiamo 4k che in effetti è ad altissima compressione quindi è espressa da quel codificatore che le dicevo H265 e che ancora nessuno ha non credo l'abbia neanche la RAIFOS in forma sperimentale sì sicuramente l'avrà però non è non è non è non è ancora visibile ecco allora abbiamo altri 5 minuti buoni volevo fare questa domanda per avvicinarsi anche poi a quello che è il nostro settore delle delle RTV locali con questa nuova codifica ci saranno più spazi quindi più frequenze e quindi oltre a rimanere tranquillamente in onda le attuali emittenti regionali ecco potrebbero anche aprire di nuove ma sicuramente la tecnologia va la nuova tecnologia con le nuove codifiche portano questi vantaggi se con un canale un vecchio canale che trasmetteva una vecchia trasmittazione trasmittente che trasmetteva su un canale in formato analogico si poteva trasmettere un solo programma con la digitale con la trasformazione in digitale nel 2010 appunto si ha avuto il grande vantaggio che su quello stesso canale praticamente su quella stessa frequenza si possono trasmettere ben 6 programmi infatti le attuali trasmittenti televisivi trasportano 6 programmi con il T2 addirittura proprio grazie alla maggiore compressione che si è ottenuta con queste nuove codifiche si possono trasmettere addirittura 12 e anche 15 programmi e quindi pensate a che grande vantaggio quindi in pratica è sempre la stessa casa che una volta ospitava una persona con l'analogico poi ne ospita è stata un po' ristrutturata e si sono create 6 stanze si è un po' compresso gli spazi e poi la stessa casa ancora adesso l'architetto l'ha rivista e ci ha messo dentro ci ha ricavato altre 6 stanze possono con chi due convivere 12 programmi cioè 12 persone per analogia come esempio della casa attenzione ma questa è una compressione che interessa le frequenze il T2i è una compressione che interessa le frequenze praticamente quelle televisione quelle che viaggiano via etere poi c'è l'altro effetto moltiplicatore che è la compressione che si riesce a ottenere non dalle frequenze praticamente via etere che sono i segnali veri e propri delle onde elettromagnetiche ma le compressioni che si ottengono nella bassa frequenza cioè dell'audio e quindi su questo si sono avuti dei notevoli vantaggi e si sono fatti dei grossissimi passi avanti per cui le immagini e l'audio insieme alle immagini che vengono sovrapposte all'onda elettromagnetica che raggiunge poi i nostri ricevitori e i nostri televisori c'è una doppia compressione delle immagini e dell'audio che addirittura consente di poter avere un risparmio complessivo per cui con un solo vecchio canale analogico si possono trasmettere ben 50-52 programmi ed è una cosa eccezionale questo è importante perché darebbe respiro all'emittenza locale apparentemente sì però proprio ieri il tavolo istituito dal Mise è la prima domanda che lei mi ha fatto ha capito come funzionano queste cose e noi locale che abbiamo avuto assegnate 5 frequenze a livello nazionale da poter utilizzare che cosa ha fatto ieri hanno detto chiaramente attenzione adesso vi togliamo siccome c'è stata la moltiplicazione per via di queste compressioni che è ottenuta dalla nuova tecnologia noi vi togliamo 4 frequenze e ve ne lasciamo solo una per cui ci tolgono sempre praticamente i viveri e siamo sempre ridotti a vivere alla giornata come si dice cioè sempre con carenze di segnali quindi è stato preannuncato ieri grotta novità te leggete i giornali oggi io poco fa ho diramato una circolare in questo senso ai nostri associati la riceverà anche lei Massimo che risulta nella lista della rea riceverà questa brutta notizia da parte nostra perché speravamo appunto di avere una maggiore capienza una maggiore disponibilità con le nuove tecnologie e invece no ci vengono tolto i canali e quindi siamo punte da capo perché quelle disponibilità che si ottengono grazie all'innovazione tecnologica e se le prende lo Stato ne fa quello che vuole ma queste sono cose che hanno dell'incredibile è l'incredibile sì ma purtroppo lì poi c'è il gioco mediatico dei poteri mediatici perché abbiamo già parlato in altre trasmissioni che il potere mediatico è uno dei tre poteri fondamentali dello Stato e praticamente chi ha le mani le stazioni trasmittenti e chi ha le telecomunicazioni che avrà domani le telecomunicazioni saranno i nuovi dittatori praticamente dei popoli delle nazioni dove bisognerà ripensare anche i modelli democratici se ancora esisteranno o se saranno sostituiti da modelli democratici virtuali non sappiamo perché questo è un rebus anche da sciogliere diciamo nei consensi istituzionali chi avrà nelle mani praticamente le centrali telefoniche avrà nelle mani il 5G che consente come tecnologia di far passare di far parlare colloquiare non più le persone ma gli oggetti perché questo è un altro problema grosso grossissimo un grande passo avanti la tecnologia ma appunto bisognerà ripensare come utilizzarla perché guardi con 4G io e lei stiamo parlando poi c'è una ricezione sua sull'altro telefonino che lei la rimette in rete e poi l'ascoltano migliaia di persone benissimo bene a questo ci sarà il 5G e questo è il 4G il 5G sa che succederà che potranno colloquiare come stiamo facendo io e lei anche tra di loro gli oggetti potrà parlare praticamente lei pensa a una catena di montaggio che attualmente c'è un operatore che dirige una persona un umano che dirige una catena di montaggio che è tutto programmato questa persona domani che dirige la catena di montaggio può tranquillamente andare a casa perché ci sarà sicuramente un altro soggetto che non è una persona umana ma sarà può essere un robot può essere anche un telefonino un semplice telefonino che ha in sé un programma per poter dare disposizione alla catena di funzionare come se fosse stata fatta da un uomo per mandare avanti tutta la produzione automobilistica e pensi lei ha due automobili che sulle strade o centinaia o migliaia di automobili che vanno sulle altre strade che parlano tra di loro e si dirigono e controllano il traffico tranquillamente come faremo noi frenano davanti a un ostacolo si fermano un semaforo possono girare a destra a sinistra possono evitare addirittura anche delle multe possono colloquiare tra di loro e mettere in condizione i passeggeri di colloquiare tra di loro senza alcun intervento questo è il 5G rivoluzionerà la nostra vita ed è considerata dagli scienziati e dagli sperimentatori effettivamente una nuova rivoluzione questa volta non della vecchia industria o della vecchia sistema agricolo che abbiamo visto nel novecento e vissuto negli anni tre industriali ma sarà la rivoluzione tecnologica digitale che ci porterà a confini a veramente ancora non prevedire da questo punto di vista come stile di vita come cultura come mentalità come modo di agire non sappiamo in casa la mattina si può uscire dal lavoro e lasciare una macchina che quando al ritorno farà tutti i servizi di casa e ci farà trovare anche il tratto pronto questo è sì per certi versi può essere vista positivamente per altri versi abbastanza inquietante non è una fantascienza quella che sto raccontando no certo stiamo parlando di ma di realtà ho capito quindi vorrei fare un'ultima domanda allora su su questa nuova tecnologia del digitale terrestre che si prospetta nell'immediato futuro come vede diciamo così la vita delle emittenti locali e come vede anche un domani la televisione alla fin fine cioè ad esempio in Svizzera si parla di togliere il digitale terrestre quindi non so rimarrà la fibra ottica con il satellite oppure solamente la fibra ottica perché a quel punto conviene fare tutto quanto lì cioè come vede lei e soprattutto con riferimento all'emittenza locale Sì non c'è dubbio che la convergenza della tecnologia va verso il televisore e la convergenza almeno per quando va l'uso domestico non l'uso industriale è un altro discorso e quindi verso il televisore confluiranno tutti i sistemi digitali domestici e anche di rapporti diciamo di svago di cultura e quindi già adesso molti di noi leggono il giornale su PC ma domani col PC si potrà tranquillamente che sia collocare col proprio ospedale essere monitorati anche da un istituto tumori oppure monitorati anche a casa tranquillamente ecco gli ospedali potranno cambiare la fissionomia potranno monitorare i malati da casa attraverso il televisore e con l'aiuto del 5G potranno anche dare addirittura fare prestazioni terapeutiche attenzione e questo è quindi il televisore già è un mezzo diciamo un mezzo secondario accessorio rispetto al 5G perché si comanderà tutto e il 5G e il 5G si avverrà anche nella collaborazione del televisore soprattutto per essere visto per essere interpretato quindi immaginate in questo scenario che non è uno scenario di fra un secolo è uno scenario di cui ha dieci anni forse meno immaginate in questo scenario la funzione delle locali figuriamoci ma nel mio modo vi vedete non esisterà neanche più la parola locale perché la parola locale è legata appunto alla diffusione limitata terrestre che può fare un'antenna collocata su un monte dove non ci sarà più le antenne pariranno dai monti tutto camminerà in fibra ottica e quindi avremo il vantaggio di recuperare il paesaggio e questo sicuramente da un punto di vista della salute recupereremo anche l'esposizione le onde elettromagnetiche almeno quelle a bassa portata perché poi verranno le onde diffuse invece ad alta velocità verranno immerse nelle città e questo sarà un guaio un guaio perché il 5G per funzionare bene deve avere un campo di radiazione a 360 gradi e come si ottiene visto che le 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 giga quindi diciamo che diventa complicato sono onde elettromagnetiche molto direttive penetranti e con una larghezza di banda che non supera i 20-30 gradi perciò per fare un sistema circolare affinché venga ricevuto un 5G in una palazzina bisognerà mettere intorno al centro del paese intorno come un raccordo con una linea annulare una strada annulare n sistemi radianti che spaziano cioè coprono a distanza di 20 gradi ciascuno i 360 gradi che lavorano simultaneamente perfettamente sincronizzati per far arrivare a 360 gradi per l'inizio in tutta la città quindi sarà anche una rete diversa da quella attuale e lì arriveranno onde elettromagnetiche che non sarà più di un giga saranno le onde elettromagnetiche ripeto almeno di 5 volte tanti dai 3 ai 5 anche i 5 giga e qui l'imposizione elettromagnetica può essere in alcuni casi anche abbastanza importante per chi ci abita e bisognerà vedere da un punto di vista sanitario e della protezione e come si può trattare si diciamo che con queste ultime informazioni mi ha un po' come dire spiazzato ecco è tutto da vedere da quello che ho capito si andrà tutto via caro quindi sarà quello il futuro però intanto cerchiamo di quello che mi preoccupa poi anche questo discorso qui che l'eliminatura è una novità quindi di aver tolto le frequenze ma è una sì questa è una grossissima novità ci tolgono quattro frequenze almeno questi sono ieri è stata ufficialmente annunciato dal ministero dello sviluppo economico diventerà legge inseriranno un emendamento nella legge di bilancio di quest'anno il 19 noi come associazione REA ci stiamo già apprezzando non passi questa storia che ci hanno raccontato ieri c'è un'altra storia che una frequenza può fare terrizio a tutta l'emittenza locale perché oltretutto tecnicamente non è molto chiara perché tecnicamente vedo difficile che una sola frequenza possa scompatibilizzare tutti i segnali di tutte le regioni con una sola frequenza ci saranno poi delle aree di confine fortemente interferite e gestire quelle interferenze sarà impossibile quindi almeno ce ne vorranno due se non tre frequenze per poter poi a scacchiera da regione a regione utilizzare frequenze diverse appunto per non creare sistemi e flussi interferenziali quindi è stato detto dalla parte per adesso del ministerio da una parte principalmente politica amministrativa e adesso questo confronto per quanto riguarda la regola dovremmo fare in Agicom nell'autorità che è una parte un po' più tecnica dove chiederemo poi praticamente come intenderanno loro risolvere il problema delle inevitabili interferenze ai conflitti di conferenze che avranno nelle singole regioni tra le regioni e l'altro non si può mantenere una stessa frequenza quindi tra di loro si scontrano certo 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 no dico questo è un nuovo problema che nasce ora naturalmente ci tenga informati dopo io darò un'occhiata al comunicato perché ho ancora da vedere ho ancora da qui la posta di redazione vedremo un attimino voglio capire un attimo ecco e se ci sono delle novità naturalmente continueremo a parlare siamo sempre pronti diciamo ad aprire un altro speciale un'altra trasmissione straordinaria su queste tematiche perché sono veramente importanti che ci preoccupano tutti da vicino sia per quanto riguarda i posti di lavoro che vengono a meno sui emittenti locali ma anche perché ne va di mezzo la nostra democrazia insomma queste voci mi domando alla fine visto che adesso appunto ieri sera avete avuto questa notizia che voglio tagliare altri canali mi domando ma chi è che vuole spegnere queste voci libere queste voci dell'emittenza locale chi è c'è a fin fine la testa da dove parte questa cosa dove è questa regia dove è nascosta in Italia all'estero perché a questo punto tante domande mi vengono comunque sarà ma il motivo di un prossimo approfondimento noi siamo dati anche oltre il tempo massimo io mi scuso con Rosario Moreno niente ingegnere io la ringrazio tantissimo per tutte le informazioni che ci ha dato in questi speciali in queste trasmissioni straordinarie che sono partite da fine ottobre e con oggi questa appunto chiude questo ciclo ma siamo pronti ad aprire altre finestre su queste su queste su questa situazione non appena ci saranno altre novità che penso che non mancheranno eccole diciamo che l'orizzonte è abbastanza nebuloso o meglio è abbastanza temporalesco forse rende più l'idea grazie professor grazie ingegnere Antonio Diomede presidente della radio televisioni europee associate a meno che non abbia da aggiungere qualche altra cosa lascio ancora un minuto se mi permette vorrei per più di quanto io abbia potuto diciamo chiarire alcuni aspetti di queste tecnologie vorrei di suggerire per chi ne ha tempo e voglia di leggere il volume radio e tv al video dove edizioni amazon basta andare su amazon.it troverete radio tv al video dove c'è un lavoro fatto dal giornalista Rainero Schembri giornalista professionista che ha interamente pubblicato una mia intervista dove vengono date tutti 50 domande 50 risposte a questi problemi perfetto ecco lo ricordi ancora una volta a questo libro Antonio radio radio tv al video edizioni amazon basta andare sul sito tre volte w amazon.it e si trova questo volumetto di 150 pagine dove c'è appunto una mia intervista fatta Rainero Schembri che spiega esattamente qual è anche delle risposte a quella che diceva prima ma poi alla fine chi è la cabina di regia di tutta questa cosa qual è troverete lì la risposta molto molto interessante tra l'altra cosa salutiamo anche il collega giornalista Rainero Schembri che conosciamo più volte lo abbiamo sentito al telefono e anzi allora ripeto radio tv al bivio perfetto grazie grazie ancora presidente Diomede grazie a lei Massimo buonasera a tutti e a presto allora a presto e allora stacchiamo il collegamento in diretta da Roma era Antonio Diomede presidente della REA radio televisioni europee associate reasat.eu per maggiori informazioni cliccate lì e vedete un po' il tutto 20.11 siamo forte tempo siamo abbastanza in ritardo siamo fortemente fuori tempo massimo io saluto anche Rosario Moreno che ci ha tenuto la regia editore di Radio Sius TV includendo qui anche radio treviso libera punto it trasmissione che va in onda anche con la nuova web radio di Trieste radio onda continua punto it è tutto chiudiamo qui questo ciclo di trasmissioni straordinarie sull'emergenza sul problema della forte crisi che non ha precedente che non ha precedenti sull'emittenza radio televisiva locale in Italia in studio Massimo Bonella alla regia centrale attreviso Rosario Moreno grazie per averci seguito vi lascio ora alla nostra programmazione anzi alle nostre programmazioni delle web radio buonasera a tutti